Buongiorno, iniziamo con oggi la parte conclusiva di questo corso, dedicata, come sapete, alla struttura della materia vista attraverso un formalismo di meccanica quantistica. La meccanica quantistica è fisica del XX secolo essenzialmente ed è il tipo di approccio che è necessario per lo studio delle proprietà microscopiche della materia allo stato condensato e allo stato non condensato. Sostanzialmente le proprietà dei sistemi atomici e subatomici non possono venire spiegate in termini della meccanica e dell'elettrodinamica classiche, ma debbono essere spiegate secondo un formalismo piuttosto diverso che comporta anche delle riflessioni di tipo filosofico, cui in qualche modo accenneremo nel corso di queste lezioni, un formalismo che appunto prende il nome di meccanica dei quanti o meccanica quantistica. Sostanzialmente gli albori della meccanica quantistica risalgono proprio agli inizi di questo secolo. Abbiamo già visto in precedenza come le leggi dell'emissione di radiazione elettromagnetica relative al cosiddetto corpo nero, non possono essere interpretate secondo Planck in altro modo se non supponendo che l'energia elettromagnetica venga scambiata dal corpo con lo spazio circostante sotto forma di pacchetti di quanti che vengono chiamati in questo caso quanti di luce, ovvero fotoni. Questo era il punto di vista di Planck, è il primo episodio di una lunga catena di trasformazioni abbastanza radicali dei nostri concetti fisici che ci hanno portati alla fisica odierna. È importante rilevare che evidentemente la fisica quantistica ha il suo campo di validità tipico appunto nello studio delle proprietà del molto piccolo, atomi, particelle componenti degli atomi, particelle componenti dei nuclei, quindi fisica atomica, fisica subatomica, fisica nucleare, fisica subnucleare. Tuttavia la meccanica quantistica deve ormai far parte del bagaglio culturale, non solo dei fisici ma anche degli ingegneri, perché la gran parte dei dispositivi allo stato solido o comunque dei dispositivi elettronici che sono in corso di studio, sono già immersi sul mercato negli ultimi anni di questo secolo, ripeto la gran parte di questi dispositivi sono basati sull'adozione di tecnologie che sfruttano conoscenze di meccanica quantistica. Quindi sostanzialmente la meccanica quantistica sta uscendo dal mondo del molto piccolo, del subatomico per entrare di prepotenza nella vita quotidiana sotto forma di dispositivi elettronici di tipo quantistico. La meccanica quantistica, come vi dicevo, nasce anagrificamente proprio all'inizio di questo secolo, l'ipotesi di Planck è proprio del 1900. Molto rapidamente ci si rende conto che l'ipotesi di Planck non è solo confinata al caso di scambi di energia elettromagnetica tra il corpo nero e l'ambiente circostante, ma è in generale, e questo è Einstein a sottolinearlo nella sua trattazione dell'effetto fotoelettrico, in generale una descrizione di tipo quantistico della radiazione elettromagnetica è necessaria per spiegare alcuni fenomeni, qual è l'effetto fotoelettrico appunto, l'effetto Compton, per la descrizione dei quali apparentemente i formalismi collaudati di tipo ondulatorio della descrizione della radiazione elettromagnetica sotto la specie di onde elettromagnetiche, dicevo questi formalismi collaudati non hanno più validità. Quindi all'inizio del secolo si assiste ad una crisi di alcuni valori, di alcune verità, io virgoletterei questa parola, verità che sembravano assodate. Alla fine del secolo scorso si riteneva che la meccanica newtoniana fosse la meccanica completa, in grado di spiegare appunto le leggi meccaniche dell'universo dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande e si riteneva che l'elettrodinamica sviluppata nel corso di tutto il secolo, di tutto l'Ottocento e compendiata nelle equazioni di Maxwell e nei lavori di Hertz, di Lorenz, di Poincaré e così via, fisici della fine del secolo scorso, torno a ripetere, ecco che l'elettrodinamica fosse un edificio estremamente saldo e rigoroso. Di fatto a tutti gli effetti esisteva tutta una vastissima serie di evidenze sperimentali che davano ragione a questa lettura, a questa interpretazione, però noi sappiamo che la fisica è sempre perfettibile e che talune verità consolidate possono sempre essere messe in discussione. All'inizio del secolo ci si rende conto che in realtà esistono dei fenomeni più complessi, dei fenomeni comunque diversi da quelli prevedibili sulla base della semplice applicazione delle leggi della meccanica e dell'elettrodinamica classiche. La fisica atomica e la spettroscopia degli atomi, molto fiorente in quell'arco di tempo, forniva continuamente delle prove della inadeguatezza della meccanica classica e dell'elettrodinamica classica nella descrizione di alcuni risultati sperimentali, nella predizione di altri risultati sperimentali attinenti alla fisica degli atomi, come si poteva in qualche modo analizzare ripeto all'inizio di questo secolo. Questa serie di problemi nuovi scaturiti da nuove esperienze, sostanzialmente problemi relativi alla scienza appunto della spettroscopia atomica, problemi relativi ad effetti specifici, l'effetto fotoelettrico, l'effetto Compton e così via, tutti questi nuovi problemi portavano verso una revisione sostanziale di quelli che sono i concetti ordinari della meccanica classica e dell'elettrodinamica di Maxwell. Accanto a questo genere di discussione, sempre all'inizio del secolo, nasceva anche la critica di Einstein alla meccanica classica, la critica che naturalmente prendeva poi corpo nella teoria della relatività ristretta, nella teoria dell'attività generale di Einstein. Tuttavia per quanto riguarda i nostri scopi, lo studio della struttura dell'atomo e della struttura dei materiali, studio molto schematico, i concetti relativistici non sono essenziali. Noi parleremo soltanto dei nuovi concetti di meccanica quantistica e anche questi verranno sviluppati in modo altamente schematico, proprio perché in realtà i concetti stessi prevederebbero un aggravio notevole di approfondimento analitico, di approfondimento formale per essere compresi a livello più profondo. Tuttavia cercheremo di essere precisi, sebbene, torno a ripetere, saremo talvolta molto semplici in questa nostra esposizione. Ora parliamo dell'atomo e parliamo delle predizioni, delle previsioni sulla stabilità dell'atomo da parte della meccanica classica e da parte dell'elettrodinamica classica. Facciamo un modello sulla base di quello che sappiamo e vediamo come un atomo si dovrebbe comportare e come dovrebbe emettere radiazione qualora la possa emettere. Bene, un atomo è formato, e questo all'inizio del secolo incominciava ad essere abbastanza chiaro, poi fu chiarito proprio negli anni dieci dalle esperienze di Rutherford, è formato da un nucleo massivo centrale caricato positivamente e da un certo numero di elettroni che in qualche modo ruotano, tra virgolette, diciamo si trovano nelle vicinanze del nucleo stesso. Quando l'atomo è neutro, il numero di cariche negative nella scella e nella sfera elettronica è uguale al numero di cariche positive nel nucleo che può essere a tutti gli effetti considerato puntiforme. L'atomo più semplice ha un nucleo formato da una sola carica positiva, un protone e un solo elettrone nel suo intorno. Quest'atomo è l'atomo di idrogeno, evidentemente faremo riferimento all'atomo di idrogeno proprio per la sua semplicità, atomi più complessi avranno necessità di trattamenti molto più complessi. Allora, in un modello schematico e classico, un atomo di idrogeno potrebbe essere pensato e visto come un singolo protone, centro di massa dell'intero sistema di fatto, perché un protone ha una massa che è quasi 2000 volte superiore a quella dell'elettrone, quindi di fatto il centro di massa del sistema coincide col protone stesso, nell'intorno del quale ruota, potrebbe ruotare un elettrone, carica positiva, carica negativa. Raggio R. Allora, questo è un modello atomico che sembra sostanzialmente un modello planetario, la Terra che ruota in qualche modo intorno al Sole, la Luna che ruota intorno alla Terra. In fondo la forza di attrazione gravitazionale è una forza che varia con l'inverso del quadrato della distanza, esattamente come la forza di attrazione colombiana tra elettrone protone e protone, quindi il modello potrebbe essere in qualche modo sensato, questo sarebbe una specie di modello planetario dell'atomo. Bene, vediamo subito che un modello planetario dell'atomo non ha un grande senso. Intanto un'orbita di questo genere è definita con un raggio che è stabilito dalla competizione fra due forze che agiscono sul nostro elettrone. Una forza di attrazione colombiana, diretta appunto verso il nucleo, è una forza di tipo, se vogliamo, centrifugo. L'orbita è stabile se le due forze si compensano. La forza colombiana naturalmente è del tipo 1 su 4π y0, sappiamo bene, e al quadrato diviso, r al quadrato, e è la carica in valore assoluto dell'elettrone ma è anche quella del protone perché abbiamo detto che hanno carica uguale. Questo è il modulo della nostra forza, sappiamo che è una forza di tipo attrattivo. Ne prendiamo al modulo e per il momento non consideriamo il segno di questa forza. E questa sappiamo che deve essere uguale alla forza cosiddetta centrifuga. La forza centrifuga è mv al quadrato su r, dove v è la velocità tangenziale dell'elettrone, r è il raggio ed m è la massa dell'elettrone. Questo significa naturalmente semplificando il raggio che è possibile scrivere un'espressione per il raggio stesso. Il raggio può essere pensato come 1 su 4π y0 per e al quadrato, mettiamo la numeratore, diviso 1 su mv quadro. adesso potremmo anche sfruttare la relazione velocità tangenziale uguale velocità angolare per raggio e a questo punto sostituire la velocità tangenziale con la nostra velocità angolare qui sotto e quindi avremmo evidentemente uguale e al quadrato diviso 4π y0 1 su m omega quadro r quadro ancora sostanzialmente. Bene, questo che cosa significa? Significa che io mi aspetto sostanzialmente una dipendenza di questo genere, guardate, se io raccolto abbiamo r al cubo, vedete r al quadrato denominatore ed r al cubo proporzionale a 1 su omega al quadrato. Omega è la velocità angolare di orbitazione dell'elettrone attorno al nucleo. che cosa possiamo dire sulla base delle informazioni che già conosciamo relative alle modalità attraverso le quali vengono per esempio generate onde elettromagnetiche? Bene, se un elettrone si muove di moto circolare uniforme attorno ad un nucleo, esso è comunque accelerato, è accelerato perché c'è un'accelerazione di tipo centripeto che evita che l'elettrone si allontani, ma una carica accelerata e accelerata in questo modo per esempio è una carica che emette energia e emette onde elettromagnetiche sostanzialmente, onde elettromagnetiche vengono emesse da cariche in moto accelerato in un sistema di riferimento inerziale che coincide diciamo col sistema di quiete del centro di massa del nostro atomo, quindi del protone in questo caso essenzialmente. Bene, il nostro atomo è una piccola antenna, questa non è strana, noi sappiamo che gli atomi sono delle piccole antenne, tuttavia questa piccola antenna sembrerebbe emettere ad una frequenza caratteristica omega che è la frequenza associata a questo moto circolare uniforme. Questa frequenza omega è legata al raggio, il raggio al cubo è proporzionale a omega alla meno 2 sostanzialmente, quindi maggiore l'orbita del nostro rotatore minore sarà la frequenza di emissione e così via. Tuttavia le onde elettromagnetiche portano con sé densità di energia, questa densità di energia evidentemente l'energia si conserva, questa densità di energia deve in qualche modo essere ottenuta per il mezzo di un impoverimento dell'energia meccanica totale del sistema. Se questo atomo emette energia io prevedo in qualche modo che perda energia meccanica e la perdita di energia meccanica, la dissipazione di energia meccanica che si allontana unitamente alle onde elettromagnetiche che devono per l'equazione di Maxwell essere prodotte da una rotazione di questo genere, la diminuzione di energia meccanica influenza evidentemente il raggio dell'orbita. L'orbita si può vedere subito, diventerebbe sempre meno, diciamo, diventerebbe spiraliforme e l'elettrone avrebbe tendenza in realtà a cadere sopra il nucleo. Allora questo porta a due conclusioni automatiche sulla base della modellizzazione effettuata sinora, automatiche ma entrambe evidentemente in disaccordo con la realtà. La prima cosa che si potrebbe concludere è che gli atomi non sono degli oggetti, delle entità stabili. Un atomo di idrogeno non dovrebbe essere un'entità stabile se viene persa energia, l'elettrone dovrebbe in realtà percorrere un moto spiraliforme fino a essere attratto dal nucleo. Ovviamente uno può concludere che questo tipo di instabilità, questa sarebbe naturalmente associata alla perdita di energia che accompagna l'emissione di onde elettromagnetiche, al trasferimento di energia lontano dall'atomo in tutto lo spazio. Evidentemente uno potrebbe argomentare che questa perdita di energia è molto piccola e che quindi un atomo in realtà è molto stabile nel tempo e in realtà ha bisogno di un tempo molto più lungo dei tempi comuni dell'esperienza umana per decadere. Tuttavia un riscontro così anche di calcolo fa vedere che in realtà gli atomi dovrebbero essere instabili su tempi neppure così lunghi e quindi dovremmo vedere instabilità atomica in qualsiasi istante della nostra vita, dovremmo vedere degli atomi che in qualche modo scompaiono e noi sappiamo che gli atomi invece sono molto stabili ed è la prima importante considerazione. La seconda importante considerazione è questa. Dato è non concesso che esista un moto spiraleggiante di questo genere, allora vuol dire che in realtà istante per istante il nostro oggetto emettente, il nostro elettrone, cambia la frequenza di emissione. Se il raggio cambia in modo lento ma costante e diminuisce, io mi aspetto evidentemente che anche la frequenza omega di emissione cambi in modo regolare. E quindi mi aspetto che se vado a vedere la luce emessa in qualche banda di frequenza dall'atomo considerato, io dovrei vedere, visto che in realtà la luce emessa dall'atomo significa luce emessa da un numero enorme, numero di Avogadro, qualcosa in 10 alla 23, di atomi per centimetro cubo della stessa sostanza, allo stesso tempo, allora io mi dovrei aspettare sostanzialmente un luce di tutte le frequenze, perché mi potrei aspettare di avere atomi in cui i raggi dell'orbita siano grandi, atomi in cui i raggi dell'orbita siano già decaduti, atomi in cui siano ancora più corti e così via, e quindi frequenze più piccole, più grandi e così via. Ecco, quindi io mi dovrei aspettare una sovrapposizione di luce sicuramente non monocromatica di moltissime lunghezze d'onda, distribuita con uniformità in un intervallo di valore, di lunghezza d'onda o di frequenza, un intervallo in fondo grande a piacere. Questo tipo di analisi è un'analisi fattibile, l'analisi cosiddetta spettrografica, quindi del contenuto in frequenza della luce emessa da una particolare sostanza, allora si considera l'idrogeno gassoso e si vede che cosa succede. Allora io mi aspetterei sulla base di modelli di questo genere uno spettro di emissione molto ampio e cosiddetto a bande, ovvero sia uno spettro di emissione in cui tutte le frequenze contenute all'interno di un certo intervallo sono rappresentate, dovrei vedere luce di tutti i colori sostanzialmente. Questo è compito degli spettroscopisti, un'analisi di questo genere viene fatta spettroscopicamente con delle tecniche che in qualche modo sono affini a quelle tecniche prismatiche di cui vi avevo parlato quando parlavamo di dispersione della luce da un prisma. Un prisma serve proprio a separare luce non monocromatica nelle varie componenti. Allora con tecniche spettroscopiche è possibile osservare gli spettri di emissione dei vari elementi. Allora andiamo a vedere che cosa succede per l'idrogeno e vediamo che cosa dice la realtà sperimentale. Voglio soltanto sottolineare un aspetto molto importante, il criterio che ci consente di stabilire se una teoria è giusta o sbagliata o comunque incompleta è l'evidenza sperimentale, a questa noi dobbiamo fare riferimento in ogni momento del nostro cammino teorico e quindi è l'evidenza sperimentale che deve in qualche modo dettarci le regole del gioco, dirci se il gioco è condotto con delle regole adatte oppure se le regole devono essere cambiate. L'evidenza sperimentale in questo caso ci dice che le regole vanno cambiate. Guardate quello che succede quando io vado a fare un'analisi spettrale nel visibile, quindi nella luce che si vede, dell'emissione dell'idrogeno. Non considerate queste H, Hα, Hβ, Hβ, Hγ, sono dei puri e semplici simboli di tipo spettrografico, però vedete lo spettro che si ottiene, quindi le frequenze, in questo caso vedete rappresentiamo non la frequenza ma la lunghezza d'onda, via via decrescente andando verso destra. Questa sigla, questa A con sopra un piccolo cerchiolino è l'iniziale della parola Ohnstrom e un Ohnstrom è un'unità di misura, un Ohnstrom sono 10 alla meno 10 metri. Bene, questo significa che questa lambda sono tipicamente 0,65 micrometri, 0,48, 0,36 e così via, quindi siamo nel visibile evidentemente e noi non vediamo affatto luce di tutti i colori, noi vediamo delle righe, una qui, poi vediamo buio, un'altra riga, un'altra, un'altra, le righe si avvicinano sempre di più quanto più ci avviciniamo ad un orlo, ad un margine destro che corrisponde a 3.646 Ohnstrom. Le lunghezze d'onda della luce emessa dagli atomi di idrogeno non sono per nulla distribuite con continuità, non formano per nulla uno spettro ma formano un insieme di righe e questo si verifica in realtà per tutti gli elementi. se si va a analizzare sperimentalmente quello che avviene si trova un risultato abbastanza caratteristico. L'inverso della lunghezza d'onda può essere messo in semplice relazione con dei numeri interi da questo tipo di legame. Uno sull'anda soddisfa esattamente a questa relazione dove R è una costante che evidentemente le dimensioni dell'inverso di una lunghezza in questo caso, è una costante che moltiplica una differenza tra inversi di quadrati di numeri interi. Uno su quattro che posso scrivere come due al quadrato, adesso capiremo perché è scritto in questo modo, meno uno su m al quadrato, dove m è un numero intero maggiore di due. Quindi qui abbiamo un quarto meno un nono, un quarto meno un sedicesimo, un quarto meno un venticinquesimo e così via. Se io faccio crescere m da tre all'infinito, ottengo tanti valori di uno su lambda, inverto e ottengo proprio questi valori di lambda che sto osservando sperimentalmente. Quindi una cosa abbastanza strana perché abbiamo anche una relazione che lega lambda a una differenza di interi. Ci si può chiedere a questo punto, a questo se questo tipo di osservazione ha dei riscontri anche ad altre lunghezze d'onda. La serie cosiddetta di spettrografica di Balmer, che corrisponde alla lunghezze d'onda nel visibile, in effetti rappresenta solo una parte delle molte serie di termini spettrografici, quindi linee spettrali che si possono osservare nell'ultravioletto e nell'infrarosso. Le serie hanno dei nomi storici, serie di Lyman, serie di Balmer appunto, serie di Paschen, serie di Brackett, ma quello che è importante è questo. Vedete qui per esempio per la serie di Lyman abbiamo una lunghezza d'onda che sta tra i millenstrom, che significa intorno ai millenstrom, 0.1 micrometro. Qui non siamo più nel visibile, siamo nell'ultravioletto. Al contrario le serie di Paschen e Brackett queste sono non più nel visibile, ma dall'altra estremità e sono sostanzialmente nell'infrarosso. È comunque un insieme di successioni di righe nell'ultravioletto, nell'infrarosso, nel visibile qui, che rappresentano tutta e sola la radiazione emessa dagli atomi, da un insieme di atomi emettenti di puro idrogeno. Sicuramente non abbiamo una banda continua di valori di lunghezza d'onda permesse, ma abbiamo soltanto delle righe discrete. Queste righe in qualche modo discrete devono essere spiegate sulla base evidentemente di un modello, di un modello più corretto del modello, del puro modello classico. Evidentemente il modello classico non è in grado di spiegare questo genere di comportamento. Perché un atomo di idrogeno emette solo su certe frequenze e non su altre, quindi solo su certe lunghezze d'onda e non su altre? Perché non si danno questi fenomeni di instabilità atomica? Gli atomi in realtà sono stabili. Che cosa sta succedendo a livello atomico? Ecco, quello che sta succedendo a livello atomico è proprio argomento della meccanica quantistica dei primi venti anni di questo secolo. Anni dominati dalla figura di un grande fisico danese, Niels Bohr, che propose un modello atomico in grado di spiegare i dati sperimentali. Noi parleremo proprio di questo modello in questa lezione, in questo quadro vediamo proprio che parleremo di modello atomico di Bohr, in cui iniziamo il discorso adesso e poi sottolineeremo particolari aspetti di dualità, di dualismo tra onde e particelle. Per quanto riguarda lo spettro di emissione dell'idrogeno, di cui vi ho dato la formula cosiddetta di Balmer, si può dire che, e anche questo è particolarmente significativo, che tutte le serie di termini spettrografici, non solo nel visibile, ma anche nell'ultravioletto e nell'infrarosso, sono interpretabili in termini di una legge che è simile a quella di Balmer. Vi ricordate? La legge di Balmer era 1 su 2 al quadrato meno qualche cosa. Bene, qualsiasi tipo di serie spettrografica, infrarosso, visibile, ultravioletto, è spiegabile, perlomeno interpretabile in termini di una legge di dipendenza dall'inverso della lunghezza d'onda emessa da una differenza di inversi di quadrati di numeri interi. In questo modo R è sempre la costante che vi dicevo, che prende il nome di costante di Rydberg, Rydberg è un fisico spettroscopista dell'inizio del secolo, m ed n sono due numeri interi, qualsivoglia a questo punto, con ovviamente la condizione che il modulo di m sia maggiore del modulo di n, m sia maggiore di n in modo tale che questa differenza sia sempre definita positiva. Allora voi potete vedere qui sostanzialmente che la serie di Lehman, per esempio, è ottenuta mettendo n uguale a 1, 1 meno 1 su m al quadrato. La serie di Balmer è ottenuta con n uguale a 2, abbiamo già detto, la serie di Paschen, che è quella successiva, ha n uguale a 3 e quindi m prende valori 4, 5, 6 e così via, eccetera eccetera. Ritornando sostanzialmente alla nostra immagine delle righe di emissione, sembra proprio che le transizioni atomiche, diciamo l'emissione di luce visibile o di radiazione nell'infrarossa e nell'ultravioletto da parte del nostro atomo di idrogeno, ma in generale di tutti i sistemi atomici, avvenga per transizione da stati caratterizzati da valori di n e di m. Per esempio, n uguale a 1, abbiamo m uguale a 2, 3, 4, 5 e così via, poi non sono stati più disegnati. Partendo con n uguale a 2, abbiamo m che vale 3, 4, 5 fino a infinito e poi non sono stati disegnati e così via. Quindi sembra effettivamente che da questo punto di vista la struttura dell'atomo non solo sia anomala, ma obbedisca a delle leggi molto semplici in cui giocano un ruolo fondamentale dei numeri interi. Quindi evidentemente c'è qualche cosa di, appunto, per usare una parola che adesso useremo spesso, quantizzato nella struttura atomica dell'atomo, del sistema considerato, in questo caso dell'idrogeno, ma torno a ripetere, di tutti i sistemi atomici che possono essere analizzati. Queste proprietà così anomale dell'atomo di idrogeno sono state interpretate da Bohr facendo uso di una ipotesi apparentemente molto ardita. L'ipotesi di Bohr consiste nel ritenere che una tipica grandezza meccanica relativa al moto dell'elettrone attorno al nucleo non possa assumere una infinità di valori continui come farebbe nella meccanica classica, ma solo alcuni valori discreti. Questa è una ipotesi di quantizzazione per questa quantità fisica che è non la distanza, ma è qualcosa di vivemente più complicato e semplicemente il momento angolare o momento della quantità di moto della particella dell'elettrone. Vediamo un attimo sul quadro sul quadro che vi compare la condizione di quantizzazione del momento angolare dell'elettrone. Il momento angolare è un vettore, voi sapete, ma il suo modulo, e noi ci occupiamo qui di modulo soltanto, è dato in queste circostanze di moto circolare attorno ad un centro fisso dal prodotto della massa per la velocità per la distanza r. Ecco, ovviamente questo oggetto classicamente è qualcosa che può assumere valori continui. L'ipotesi ardita di Bohr è che questo momento angolare per l'elettrone rotante attorno al nucleo assuma soltanto valori che sono multipli interi di una costante fondamentale. La costante fondamentale è strettamente imparentata alla costante di Planck che abbiamo ricavato, che abbiamo introdotto nella discussione del spettro del corpo nero. La costante H tagliato è semplicemente H su 2π, quindi ha le stesse dimensioni di una azione. Questo H o H tagliato sono quanti elementari di azione. Bene, il momento angolare secondo Bohr non può assumere una infinità di valori ma soltanto alcuni valori, naturalmente N assume tutti i valori 1, 2, 3 fino a più infinito, quindi una infinità pure di valori ma discreti e questa è una assunzione estremamente rivoluzionaria per quanto riguarda la struttura fine di una proprietà fisica a livello atomico, perché è la prima volta che una proprietà meccanica viene in qualche modo quantizzata. Ad una proprietà meccanica viene attribuita soltanto la possibilità di avere un certo numero ben determinato di valori che soddisfano una certa legge dove gioca un ruolo fondamentale un numero intero. Ecco, questa è una legge di quantizzazione per una proprietà meccanica. Bene, vediamo rapidamente che questa ipotesi di Bohr è in grado di spiegare effettivamente gli spettri di emissione dell'atomo e per fare questo consideriamo proprio un pochettino quella che è la nostra struttura formale del sistema. Abbiamo detto e lo ribadisco che abbiamo su di un elettrone in stato stazionario evidentemente la composizione di due forze in contrasto l'una con l'altra che si devono evidentemente annullare l'una con l'altra. Una è la forza di attrazione di tipo colombiano e l'altra è quella forza di tipo repulsivo centrifugo di cui vi dicevo in precedenza. A questo punto noi possiamo fare una banale trasformazione, moltiplichiamo per R al quadrato, riscrivo il tutto, 1 su 4 pi greca y0 per E al quadrato uguale a mv quadro per R. Ho soltanto moltiplicato per R al quadrato. Ricordandoci la definizione classica del momento angolare L, questa espressione può anche essere scritta come L al quadrato diviso m per R. In effetti il momento angolare è proprio definito come m per v per R e quindi potete subito controllare questa posizione e fin qui non c'è nulla di nuovo. Adesso però introduciamo direttamente l'ipotesi di Bohr. L'ipotesi di Bohr è che L non sia una funzione continua dello spazio e della velocità ma assuma soltanto appunto dei valori che sono multipli interi di H tagliato. Allora L al quadrato è n quadro H tagliato al quadro diviso mr. A questo punto vedete che abbiamo una relazione ben precisa che ci lega il valore del raggio dell'orbita a questa n. possiamo scrivere in questo modo. Scriviamo qui R è uguale a n al quadrato H tagliato al quadrato diviso m per 4π y0 diviso ancora carica dell'elettrone al quadrato. Allora vedete che questo raggio ormai secondo l'ipotesi di Bohr è il raggio dell'orbita dell'elettrone e non assume più valori che variano con continuità. Questo era il problema. Questo raggio può assumere soltanto dei valori che sono diciamo in qualche modo multipli di un valore fondamentale. Per n uguale a 1 ovviamente abbiamo il valore più basso. Visto che il raggio dipende da n, in realtà da n al quadrato come vedete, io posso connotarlo con un pedice. È il raggio di quella che viene chiamata la n-tima orbita di Bohr. Io posso anche scriverlo come n al quadrato per un certo R0 che è semplicemente questa grandezza, questa quantità. R0 è uguale a 4π y0 h tagliato al quadrato diviso m e al quadrato. Questo rapporto ha le dimensioni evidentemente di una distanza e viene chiamato raggio di Bohr dell'atomo di idrogeno. Il raggio di una qualsiasi orbita può essere R0 o 4R0 o 9R0 o 16R0 eccetera eccetera con n appunto che varia da 1 a infinito. Questo tipo di relazioni le vedete anche sul vostro schermo. Ecco, questa è l'espressione del raggio dell'ennesima orbita di Bohr e come vi ho detto questo è il valore del raggio di Bohr. Notate che il valore numerico per l'idrogeno, quindi per l'elettrone rotante attorno al protone è circa 0.5 Ohnström, 0.5 in 10 alla meno 10 metri. Questa è la distanza tipica, minima, possiamo dire, che separa un elettrone dal nucleo. Tutti gli altri raggi sono evidentemente maggiori. consideriamo ora le energie associate alle varie orbite di Bohr. Per far questo dobbiamo naturalmente scrivere l'energia meccanica totale del nostro sistema che è un sistema conservativo, l'elettrone soggetto a una forza centrale conservativa e quindi ammette un'energia potenziale. L'energia totale del sistema sarà data dalla somma dell'energia cinetica, un mezzo mv quadro dell'elettrone, più l'energia potenziale che sappiamo dipende dalla posizione dell'elettrone e la posizione parametrizzata dal raggio di Bohr R con n. L'energia potenziale è presto ottenuta perché U con R n è semplicemente data da meno 1 su 4π y0 e al quadrato diviso R con n. Questa è l'energia potenziale che è negativa perché si tratta di un potenziale attrattivo, come voi sapete bene. Adesso dobbiamo analizzare l'energia cinetica. Per ottenere informazioni sull'energia cinetica scriviamo di nuovo la condizione di equilibrio di bilanciamento tra la forza colombiana centripeta, un mezzo 1 su 4π y0 per e al quadrato su R n al quadrato per l'ennesima orbita di Bohr deve essere uguale a mv quadro diviso R con n. Questa l'abbiamo già scritta prima. Semplifichiamo e vediamo che un mezzo mv al quadrato evidentemente può essere scritto come 1 su 8π y0 e al quadrato su R con n. Ma per riscontro tra questa espressione e quella scritta in precedenza qui possiamo anche scrivere questa espressione come meno un mezzo U di R con n. Questo significa che la nostra energia totale è con n, scriviamo proprio esplicitamente il pedice n perché l'energia dipende dal livello ennesimo, sarà la somma di energia cinetica che può essere scritta come meno un mezzo U di R n, non lasciatevi trarre in inganno da questo segno meno, un'energia cinetica è sempre definita positiva e il fatto che è la U che è negativa e quindi evidentemente questo oggetto è positivo, più U di R con n e questo è uguale a più un mezzo di U di R con n e quindi uguale a meno 1 su 8π y0 e al quadrato R con n come compare qui. A questo punto noi possiamo ancora esplicitare l'ennesimo raggio di Bohr, ricordiamoci che R n è uguale a n per al quadrato per R con 0 e quindi possiamo ancora scrivere meno 1 su 8π y0 e al quadrato diviso R0 per 1 su n al quadrato ancora. E questa è l'espressione che compare sul vostro schermo adesso ed è l'espressione relativa all'energia dell'ennesimo livello. Questa è l'energia, è una successione di energie ammesse, l'energia più bassa, perché qui c'è un segno meno, l'energia più bassa corrisponde a n uguale a 1 e la più alta corrisponde a 0 che si ha quando n tende ad infinito. Sono tutte energie negative il cui limite superiore è lo 0, qui si arriva facendo tendere a n di infinito. Nella prossima lezione noi parleremo, noi vedremo come questa previsione dell'atomo di Bohr consenta di spiegare gli spettri atomici, le serie di Leimann, di Balmer, di Passion e di Brackett che abbiamo visto, quindi la quantizzazione spettrografica che abbiamo visto. Tuttavia vorrei far rilevare già adesso una importante caratteristica. Dunque questi sono valori consentiti a quanto pare, sono valori permessi, valori del momento angolare che abbiamo visto, multipli di H tagliato e questo implica l'esistenza di valori specifici del raggio dell'orbita, quindi non tutte le orbite sono lecite, ma soltanto quelle che hanno certi raggi, ma queste sono stabili, sono stazionarie. Non tutte le energie sono lecite, ma soltanto le energie associate a determinati valori, come abbiamo visto, dell'intero N. Bene, questo che cosa significa? Significa che stiamo incominciando a esaminare a dare una descrizione della natura che è molto diversa da quella che era la descrizione classica. Esistono delle orbite consentite, solo un set infinito ma discreto di orbite consentite, un insieme definito, diciamo infinito ma discreto, però attenzione queste orbite sono stazionarie. Sembra che quando un elettrone è sopra un'orbita di questo genere non perde energia, perché è un'orbita stazionale, è un'orbita consentita. Stiamo veramente dando una descrizione molto diversa della struttura atomica e del modo con cui gli atomi emettono energia. La descrizione a cui stiamo arrivando è questa, gli atomi non emettono energia fin quando si trovano in stati stazionari. L'emissione di energia non avviene con continuità, ma avviene soltanto quando un atomo transisce da uno stato ad un altro, quando cambia N. E in questo cambiamento, durante questo cambiamento si ha emissione di uno o più pacchetti di energia e questi pacchetti di energia vedremo saranno proprio i quanti di Planck che erano stati già introdotti nella descrizione dello scambio energetico di onde elettromagnetiche e nella propagazione di onde elettromagnetiche in determinate condizioni sperimentali. E questo lo vedremo naturalmente nella lezione seguente.